Il fatto è che non posso imbrogliarvi, nessuno di voi. Sono troppo sensibile. Ho bisogno di stordirmi per ritrovare quell'entusiasmo che avevo da bambino. C'è del buono in ognuno di noi e credo di amare troppo la gente, così tanto che mi sento troppo fottutamente triste. Il piccolo triste, sensibile, ingrato, pezzo dell'uomo Gesù. Perché non ti diverti e basta? Non lo so. Ho una moglie divina che trasuda ambizione ed empatia e una figlia che mi ricorda di quando ero come lei, pieno di amore e gioia. Mi è andata bene, molto bene durante questi anni e ne sono grato. Ma è dall'età di sette anni che sono avverso al genere umano, solo perché a tutti sembra così facile tirare avanti ed essere empatici. Penso sia solo perché io amo e mi rammarico troppo per la gente. Io sono un bambino incostante, lunatico e non ho più nessuna emozione. E ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Pace, amore, empatia.